Benvenuti a tutti amici di Radio News 24, io sono Sara Ferri, oggi parliamo di Hashtag Arte Bici, lo facciamo con il nostro ospite Alex Girardi, benvenuto Alex. Benvenuto, grazie mille, grazie di questa opportunità che mi offrite. Grazie a te, dunque Alex ha appunto questa azienda che produce Arte Bici, quindi si chiama Arte Bici, il brand, raccontaci un po' come è nato questa tua idea di aprire questa azienda. Allora, l'attività in sé è molto giovane perché ha due anni, ho aperto nel 2019, ma la passione risale, della meccanica soprattutto risale a quando avevo 16 anni, nel 1990, che subito ho lasciato gli studi, ho cominciato a lavorare in ambito, lavoravo per un meccanico di bici della zona e poi questa passione per la meccanica si è anche trasformata in una passione per la bici in sé, mi piace andare in mountain bike, cosa che condivido con la mia ragazza, è una cosa splendida. Ah, bella. Sì, anche, ho un po' questa fortuna, diciamo. Dopodiché invece a livello lavorativo, nel 1995 ho avuto la fortuna di entrare in un'azienda importante, sempre qui della zona, che produceva le biciclette, e lì ho imparato quasi tutto quello che so, sia a livello di meccanica che a livello di marketing, perché mi occupavo un po' di tutto, anche di rapporti col pubblico e quindi poi una serie di vicissitudini un paio di anni fa mi ha portato a aprire la mia vita personale. Ed eccomi qua, sostanzialmente. Quindi praticamente tu ti occupi anche del design, no? Delle biciclette che produci, del marketing del tuo brand, di cosa ti occupi all'interno appunto della tua attività? Ah, in pratica, essendo un'attività individuale, tra virgolette, mi tocca fare tutto me, o fare tutto io, a partire da quello che è la presenza sui social e quindi il marketing discorrendo, gestico scone e commerce, su un famoso canale di vendita conosciuto per le asti online, non so se si possono fare nomi per la pubblicità. Sì, si, si, puoi citarlo. Ah, ok, quindi su eBay ho un negozio online. Sì. Dopodiché, ed è quella la mia passione principale, effetto riparazioni sui bici e creo le bici di mio marchio personalizzandole sulle richieste dei clienti, sia a livello grafico che a livello di componentistica. E la produzione? La produzione in sé è sempre io. Quindi è tutto, sì, sostanzialmente, diciamo che divido la giornata in settore, la mattina mi dedico all'e-commerce discorrendo e al pomeriggio mi dedico alla meccanica e alla realizzazione di queste bici. Qui il tuo ordine in pezzi e poi i monti insieme. Sì, sì, in parole povere è proprio così, si parte dal telaio per poi farlo verriciare sempre su personalizzazione del cliente e la verriciatura non la faccio io e neanche la realizzazione del telaio, io provvedo a realizzare l'idea mettendo insieme i vari componenti, ecco, queste qua. Complimenti. Che tipo di bici proponi, quindi, mountain bike ma anche da strada? Sì, diciamo che mountain bike, essendo la mia passione, naturalmente è il mio settore primario, però, faccio un esempio, quest'anno è stato un anno in cui ha avuto molto successo un certo tipo di bici che si chiama gravel, che è una via di mezzo tra una bici da corsa e una bici da turismo, faccio le bici da corsa, diciamo che in sostanza mi piace cercare di accontentare il cliente qualsiasi sia la sua passione, quindi se mi chiede anche un triciclo, cerchiamo di realizzare anche il triciclo volendo, hai capito? Quindi tu, scusa, hai un rapporto diretto col cliente finale? O passa attraverso anche i negozi? No, no, diciamo che una mia bici può essere acquistata solo venendo da me, quindi esclusivamente con il rapporto diretto col cliente, infatti è una cosa che apprezzo molto del mio lavoro, che praticamente ogni bici che esce è diversa dall'altra e ogni cliente esce con la sua bici, è una cosa molto interessante. Sì, sì, a me piace parecchio come situazione. Ognuno ha comunque la sua bici personalizzata? E lì rimasto sì, basta scorrere le foto che ho su Facebook e uno non individua una bici uguale all'altra perché naturalmente ognuno ha le sue idee sia di come farla a livello di componenti che anche a livello grafico, quindi infine è una diversa dall'altra. Bellissimo, e su commissione del cliente, cioè il cliente che appunto richiede determinate caratteristiche, colori? Sì, sì, colori e quant'altro, dopodiché un'altra cosa che cerco di interagire con il cliente cercando anche di indirizzarlo nel tipo di bici che più in realtà si addice all'utilizzo che lui ne va a fare. A volte arriva un cliente con un'idea abbastanza vaga in testa e senza sapere bene quello che vorrebbe comprare, alla fine se ne esce con una bici adatta a quello che vuole andare a fare. Questo è l'ideale. Certo, comunque dare anche una consulenza su quello che può essere giusto o variato. Sì, è importante perché, come dicevo, spesso e volentieri uno si affaccia al mondo, soprattutto quest'anno ad esempio che tantissima gente si è affacciata al mondo delle bici, si è affacciata al mondo delle bici ma senza sapere esattamente cosa comprare per l'utilizzo che ne doveva fare, quindi è stato molto utile avere a che fare con una persona che magari cercava di consigliarli su che tipi di bici era più adatta all'utilizzo che ne dovevano fare. Quindi parlando a punto di questo periodo, quali cambiamenti avete riscontrato nel vostro settore dall'inizio della pandemia? Allora, a parte i primi due mesi di febbraio-marzo, che onestamente sono stati uno shock molto pesante, perché abbiamo chiuso, quindi per due mesi il negozio è rimasto chiuso, per fortuna ho potuto mandare avanti l'e-commerce, quello mi ha dato un po' di sostentamento, dopodiché alla riapertura, tra virgolette chiamiamola così, alla riapertura c'è stata una vera e propria esplosione, complice il bonus mobilità, complice il fatto che parecchia gente ha riscoperto il gusto di prendere una bici e andare a fare un giro anche fuori dalle porte di casa senza bisogno di andare chissà dove, questo si è tramontato in un aumento del lavoro non indifferente, tant'è che ho dovuto cambiare orari, ho dovuto sistemarli. D'altro canto c'è il rovescio della medaglia, perché purtroppo il nostro è un settore che il 97-98% del materiale arriva da Cina, Taiwan, paesi da lì. Loro si sono fermati, hanno diminuito la produzione, qui è aumentata la domanda, si è tradotto in un manca il materiale e i prezzi stanno aumentando a dismisura, quindi c'è il rovescio della medaglia purtroppo e lo stiamo vivendo in questi mesi qui, da qui a tutto il 2021 credo che la situazione non migliorerà, indipendentemente da quello che succederà a noi chiusi, aperti, si può girare, non si può girare, quello è relativo, ma anche sentendo alcuni miei clienti, non è solo il mio settore che ha avuto questo problema di aumento dei prezzi e mancanza di disponibilità del materiale, questo è quello che andiamo incontro quest'anno dopo un anno che comunque tutto sommato è stato positivo, ecco, a livello commerciale, a livello di vita un po' meno, un po' questo per tutti penso. Sì, purtroppo è andata così, però in effetti si è riscoperto veramente il piacere della bicicletta di farsi un giro all'aria aperta, quindi si è riscoperto il desiderio della bicicletta. Sì, sì, ma io come dicevo alla fine lavoravo in un'azienda qui vicino e già avevo che fare col pubblico, con le riparazioni, le bici e garantisco che il movimento, come si a dire, come quest'anno non c'è mai stato. Siamo a livelli di due o tre volte di più rispetto a tutti gli anni precedenti che ho visto in questi trent'anni in cui faccio questo lavoro. Quindi obiettivamente... C'è stato, scusa, qualche settore che ha smaggiovato della situazione, visto che al principio... sì, sì, ma infatti ho parecchi clienti e amici che hanno altre attività, soprattutto quelle della ristorazione e del turismo, che mi ritengo molto fortunato di non essere nelle loro situazioni, perché non ho idea di come... non mi capacito di come possano tirare avanti in questo momento. Scusa, il tempo a nostra disposizione è terminato. Allora ricordo i social che sono artebici, le bici a regola d'arte, instagram artebici.it. Grazie mille Alex, poi ti possono appunto contattare su ebay, hai anche un sito internet? Sì, il sito classico è www.artebici.it. Grazie mille, ciao Alex. Grazie a tutti voi, un saluto, ciao. Radio News 24 Nerd, un altro po' con un'altra intervista, rimanete con noi.